Benvenuti e bentornati amici qui a Carmarosso. Sono qui a fare questo breve video per avvisarvi di una cosa che sicuramente sta a cuore a più di qualcuno. Sto parlando del fatto che è finalmente disponibile per tutti quelli che sono interessati il mio metodo per imparare a leggere i tarocchi. Quindi ho creato un corso e se volete approfondire un pochettino di che si tratta andate a cliccare sul link che troverete nel primo commento che io lascio sempre sotto i miei video. Di solito ci trovate i marcatori temporali, questa volta ci troverete semplicemente un link, cliccateci sopra, andate a vedere sulla pagina dedicata il video di presentazione, leggetevi pure un po' la descrizione e poi compilate il modulo così mi lasciate i dati e cominciamo a costruire quello che è l'accesso al corso più utile a voi. Ok? Grazie dell'attenzione, vi abbraccio tutti quanti, qui è tutto da Carmarosso. Ciao ciao!